Piuttosto che assumere un assistente sociale si finanzia l'estate subbianese. La denuncia è della minoranza in consiglio comunale a Subbiano che stigmatizza la decisione della giunta comunale guidata da Antonio De Bari che ha recentemente approvato una delibera in consiglio comunale. Praticamente fa una variazione di bilancio e quindi la nostra giunta, l'attuale giunta di Subbiano, ha deciso di rinviare l'assunzione dell'assistente sociale come che non fosse necessario avere un assistente sociale a Subbiano che invece ne abbiamo bisogno perché la sofferenza e il malessere enorme, quindi si rinvia l'assunzione e praticamente continuando ad avere un assistente temporaneo e a convenzione per destinare quelle somme che a questo punto vengono risparmiate per finanziare la cosiddetta estate subbianese, quindi quelle iniziative con le varie associazioni per garantire questi intrattenimenti. Ora, gli intrattenimenti e il divertimento ben venga, io sono, come noi crediamo, molto favorevole però credo che non si possa togliere risorse al sociale per destinarle al divertimento perché il sociale è il bisogno e la difficoltà dei nostri concittadini e mi stupisco molto dell'assessore al sociale che praticamente ha votato a favore di una delibera come questa, come se non si rendesse conto di che situazione di difficoltà c'è a Subbiano. La denuncia dei tre consiglieri, David Faltoni, Vasco Bobini e Ilario Maggini, non si ferma qui. I loro emolumenti dall'inizio della legislatura dovevano essere versati all'Istituto Palazzeschi per precisa scelta dei consiglieri, ma l'ente non ha ancora elargito queste somme. Abbiamo anche chiesto ripetutamente che anche i consiglieri di maggioranza perseguissero questa strada per far sì che comunque la consistenza di cassa fosse un pochino superiore, però chiaramente non abbiamo avuto conferma. Ma il fatto grave è che non vorrei che poi venisse a dire che abbiamo voluto strumentalizzare. Noi più volte in Consiglio Comunale abbiamo sollecitato che questi soldi fossero elargiti dove noi avevamo chiesto. Siamo quasi alla fine della legislatura, quindi abbiamo quattro anni abbondanti di gettoni che se ne sono tenuti nelle casse del Comune. Non capiamo il perché e quindi questo vogliamo denunciare pubblicamente. Credo che saranno sui 2-3 mila euro, non saranno molti, ma comunque sono soldi nostri che non sono stati dati. Da precisare che i consiglieri di maggioranza l'hanno già riscossi, quindi l'assurdo è questo che una parte del Consiglio ha già riscosso, messo in tasca queste somme, noi che le avevamo destinate alla beneficenza, in loro specifico all'Istituto Palazzeschi, non gli è stato dato nulla. Il Comune Subbiano è in crisi, in crisi totale, perché se devono fare delle variazioni di bilancio, devono trovare delle delibere per trovare circa 10 mila euro per fare le manifestazioni. Prima si faceva manifestazioni e l'assistente sociale, ora si pagava l'indennità di presenza ai consiglieri. Oggi come oggi non è più i cinque anni fa, oggi c'è molto più crisi nei comuni, nei cittadini, ci vuole più assistente sociale e invece loro l'hanno spostata per fare le manifestazioni.